Tutti i benchmark che vedete li ho registrati con la scheda di cattura e non ho utilizzato nessun software di registrazione video, quindi la performance che vedete è esattamente quella del portatile stesso, eccetto qualche piccolo errore marginale di cattura ovviamente, però comunque tutto sommato la qualità è decisamente questa, non c'è nessun rendamento dovuto a Shadowplay, Action, Mirilis, Fraps, Hypercam, Camtasia, eccetera, tutto registrato tramite la scheda di cattura. Cinebench R15 ha quasi raggiunto lo stesso punteggio del mio desktop, giusto per pochissime decine di punti, non ha raggiunto gli 800, però tutto sommato come potete vedere è praticamente quasi a pari. Per quanto riguarda Fire Strike Ultra, qua è stato un pochettino difficile, infatti Fire Strike Ultra è un benchmark abbastanza pesante che utilizza il 4K e inoltre è ideato principalmente per sistemi a GPU multiple, di conseguenza non è l'ideale da eseguire su un portatile, come potete vedere non è andato oltre i 20 fps in generale. Tutto sommato Time Spy è riuscito invece a raggiungere dei punteggi abbastanza decenti, come potete vedere questa qui è la demo di Time Spy e si può vedere che il video è abbastanza liscio senza troppi problemi di fps. Chiaramente non va a 60 fps fissi, però comunque è un risultato abbastanza godibile. Adesso passiamo a dei video e risale sui dei giochi effettivi per vedere come il Alienware riesce a reggerli. Questo è Doom 4 con la grafica al massimo e potete vedere che comunque sia sta sui 58-60 fps in OpenGL senza problemi. Sicuramente se avessi messo il Vulkan come API avrebbe raggiunto magari dei fps più stabili, però comunque riuscire a reggere i 60 fps in OpenGL per un portatile direi che è qualcosa di veramente eccezionale. Overwatch con la grafica al massimo in Epic riesce a raggiungere i 60 fps senza problemi, tuttavia la temperatura della scheda grafica sale a più di 60 gradi, che comunque in confronto agli 85 gradi della GTX 470 che ho avuto dal 2010 al 2014 è una temperatura abbastanza decente. In ogni caso non consiglio di giocarlo troppo a lungo con le impostazioni massime perché potrebbe far surriscaldare il portatile e creare problemi. Parlando di temperature ho fatto lo stress test con AIDA64. Il processore si è mantenuto a una temperatura di circa 73 gradi e non mi ha dato nessun segno di throttling, quindi direi che la pasta termica che c'è per ora di fabbrica è abbastanza decente. Quindi potrebbe anche essere che la temperatura che indicava Overwatch fosse quella della CPU e non della scheda grafica. Non lo so, c'è scritto soltanto temperatura quindi non lo so. In ogni caso io ho provato soltanto Overwatch e Doom 4 in questi video, però poi fuori video, ho provato anche altri giochi ed è riuscito a reggerli abbastanza bene. Ho anche provato a streamarmi dei giochi dal mio desktop al laptop direttamente tramite Steam e riesce anche a fare questo senza problemi. Ovviamente qualche problema di qualità dovuto alla connessione perché infatti lo stream dei giochi va tramite cavo di rete, ma comunque tutto sommato sono giocabili con un po' di latenza. Adesso passiamo alle conclusioni e finalmente completiamo il video con la mini recensione finale. In conclusione, l'Alienware 17R4 è un portatile ottimo per il suo rapporto qualità-prezzo. La rifinitura interna in gomma è un problema perché tende a diventare così ed anche peggio al passare il tempo. La tastiera invece è eccellente, una delle tastiere migliori che abbia mai usato in un portatile. Il trackpad è troppo piccolo, avrebbero potuto farlo più grande, persino un laser Aspire V5 è un trackpad più grande di questo, andiamo. Mentre si digita con la tastiera a volte interferisce anche, di conseguenza è meglio disattivarlo del tutto e usare un mouse USB. Non ho avuto problemi di sorriscaldamento, credo che quindi i problemi termici del modello precedente siano stati risolti. Comunque sia non mi fido troppo ed è meglio usare una ventola da portatile per mantenere la superficie fresca. Il sensore AIR della webcam è molto veloce. A volte quando lo accendo e si connette in automatico al mio profilo o a quello di mia madre quando lo usa lei, mi chiedo se effettivamente faccia qualcosa, da quanto è veloce a riconoscere le facce. Questa è la qualità della webcam e del microfono dell'AMG7 R4. Come per vedere non è in massima la qualità, mi aspettavo di molto meglio da un brand di quasi 2000€. Comunque sia, ho visto di peggio in molti portatili. Sono anche sorpreso che la webcam sia in alto e non in basso, come in molti portatili della Dell. E ogni tanto fa anche questi flash gialli. Ormai da circa un mese che ce l'ho, lo uso ogni settimana all'università e devo dire che riesco a lavorare con cinema 4D esattamente come stessi usando il mio PC fisso. Il rendering è praticamente uguale al mio i7-Q790K. Abbiamo anche visto un video in classe con questo portatile e non scherzo affatto quando dico che le casse di questo portatile sono buone. Si riusciva a sentirlo forte e chiaro anche in fondo all'aula. Inoltre lo speaker dedicato alla lesione dei bassi, che non è un subwoofer come molti altri su YouTube credono, fa il suo lavoro e rende i suoni bassi molto ben distinti rispetto ai suoni alti e medi. Il mio è il modello senza Tobi Eye Tracking, soltanto il Tobi Eye Air della webcam. Quindi non posso provare e di conseguenza non posso neanche dire nulla sulla qualità di quel tracker. Il monitor è un pannello IPS antiriflesso da 17 pollici con una risoluzione di 1920x1080p ed è anche attualmente la risoluzione più alta che io abbia mai usato in un portatile. Consiglio questo portatile a tutti coloro i quali debbano usare premi di modellazione, animazione e render 3D come Maya o Cinema 4D ed anche a chi vuole semplicemente giocare a quasi qualsiasi gioco mentre in cucina o in bagno, a voi la scelta. Adesso parliamo un secondo del BIOS. Il BIOS non l'ha mai fatto vedere praticamente quasi nessuno in questi video di recensioni e unboxing. Il BIOS è molto semplice e non ha nulla di custom dell'Helenware. È possibile ovviamente modificare tutte le voci che riguardano la virtualizzazione della CPU e modificare anche il livello di performance della CPU e della ventola. Esattamente non so cosa cambi tra disabilitato e abilitato perché erano già indisabled di default. Penso che modifichi un pochettino il box della CPU al costo di un po' di calore ma non ne sono sicuro. Tuttavia non ci ho lavorato più di tanto con queste voci nel BIOS. È possibile ovviamente anche modificare la periferica di boot dalla scheda di boot e poi è possibile anche salvare e resettare il PC. È possibile acquistare questo portatile direttamente dal sito ufficiale della Dell ed è disponibile in tre versioni. Da 13 pollici, da 15 pollici e da 17 pollici. Quello da 13 pollici parte da 1.479 euro circa. Quello da 15 pollici 100 euro in più. E quello da 17 pollici 1.849 euro di partenza. Come qualsiasi prodotto Helenware ovviamente è possibile personalizzarli direttamente dal sito della Dell. Infatti si possono scegliere tra Windows 10 Home Edition e Windows 10 Professional su tutti e tre i modelli. Per quanto riguarda il processore, nel modello da 13 pollici è disponibile soltanto un i5-7300HQ o un i7-7700HQ. Mentre dal modello da 15 pollici in poi è disponibile sia l'i5-7300HQ che l'i7-7700HQ che anche l'i7-7820HK. Ovviamente la differenza come potrai vedere è minima tra i vari processori. Per quanto riguarda l'i5 e l'i7 sono quasi identici. infatti abbiamo 6 MB di memoria cache in entrambi i processori e 3,5 GHz per l'i5 e 3,8 per il i7. Come potrai vedere la differenza è di appena 300 MHz. Per quanto riguarda invece l'i7-7820HK anche esso è un quad core, sicuramente con 8 thread come gli altri due o come l'i7 perlomeno. Ha 2 MB di cache in più. Infatti da 6 MB passiamo a 8 MB di memoria cache e questo quindi dà un vantaggio per quanto riguarda ad esempio il rendering. È l'overclock dinamico fino a 4,4 GHz. Quindi abbiamo un boost molto più alto rispetto al 7700HQ. Il mio modello all'i7-7700HQ quindi è vincolato al limite di turbo boost di 3,8 GHz con un eventuale possibile overclock a 4 GHz. Ho visto che molti sono riusciti ad overclockarlo però ovviamente modificando il sistema di dissipazione. Per quanto riguarda le schede grafiche nel modello da 13 pollici possiamo scegliere soltanto la 1050, la 1050 Ti e la 1060 della Nvidia rispettivamente da 2 GB, 4 e 6 GB di memoria di DR5. Dal modello da 15 pollici in poi è possibile scegliere soltanto dalla 1060 in su. Quindi la 1050 non è possibile per il modello da 15 e 17 pollici. E quindi abbiamo un maggiore diciamo punto di partenza. Abbiamo quindi 6 GB in memoria per la 1060 e 8 GB per la 1070 e anche la 1080. Mentre il modello da 17 pollici è possibile anche scegliere una AMD Radeon RX 470 da 8 GB. 6 GB con la 1060 e poi 8 GB con la 1080. Come potete vedere il modello da 1050 e la 1050 Ti è disponibile soltanto nel modello da 13 pollici. Passiamo adesso alla RAM. Abbiamo maggior scelta di RAM per i primi due modelli, quello da 13 e da 15, mentre per il modello da 17 pollici abbiamo una scelta molto più limitata. Qui parliamo di differenza più che altro di clock di megahertz, quindi non tanto di capacità. Di capacità è possibile arrivare a 32 GB di DR4 su tutti e tre i modelli. C'è molta più scelta per il modello da 13 e da 15 pollici, mentre per il modello da 17 pollici siamo vincolati soltanto a una scelta tra 2400 megahertz o 2667 megahertz. Io ho scelto 16 GB di DR4 da 2667 megahertz, quindi la prestazione più alta di clock e la via intermedia di capacità. Per quanto riguarda il display, il modello da 17 pollici è l'unico modello che può supportare il Tobi Eye Tracking, da quanto vedo da questa schermata. Per quanto riguarda l'NVIDIA G-Sync, parte dal modello da 15 pollici, quindi se volete l'NVIDIA G-Sync ma non volete spendere quasi 2000 euro per un portatile da 17 pollici, allora potete prendere tranquillamente il modello da 15 pollici. Mentre quello da 13 pollici è vincolato soltanto al semplice HD 1366x768, ma anche al 1920x1080 con gli display full HD e inoltre è l'unico modello tra i tre che può avere un display touchscreen OLED. Quindi se volete un touch, allora dovete prendere per forza il modello da 13 pollici il più piccolo che c'è. Quindi queste sono le uniche scelte possibili di configurazione dell'Heliware R4. Come potete vedere, ogni modello ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Delle caratteristiche in più in alcuni modelli, come ad esempio più scelta di RAM, sempre da 8, 16 e 32, però con anche la possibilità di scegliere la RAM da 2000 e 133 MHz che scompare nel modello da 17 pollici, oppure possiamo avere ad esempio soltanto il Tobi Eye Tracking nel modello da 17 pollici e non in quelli precedenti. Però nel modello da 13 pollici è disponibile anche il display OLED con tecnologia touchscreen, quindi in compenso è l'unico modello che può avere un touchscreen, almeno di questa serie di Alienware portatili. E detto questo io finisco qui il video, abbiamo fatto un unboxing, benchmark e recensione, praticamente una tripletta, tre video in uno, qualcosa che non si è mai visto in nessun altro video del genere, soprattutto per l'italiano, e direi che posso concludere qui, non ho altro da dire. Ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!